I 418 dipendenti della commessa team del call center Colmat di Matera corrono il rischio di una riduzione delle ore di lavoro del 30%, una percentuale che per fine anno potrebbe arrivare fino all'80% a causa delle intenzioni da parte di team di ridurre l'appalto. Ieri sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali SLC-CGL, Fistel-CISL, Wilcom-Wheel, Eugl-TLC per alzare il livello di attenzione su quella che è una situazione in cui gravitano anche altre aziende di altre regioni italiane come Distribuzione Italia, Abramo e Nova Connecta. Nella città dei Sassi presidio dinanzi alla prefettura per poi essere accolti da sua eccellenza il prefetto. Lo sciopero ha avuto un'adesione superiore al 60% per quanto riguarda la media nazionale a Matera del 95%. Da anni, dice UGL Telecomunicazioni, denunciamo i problemi legati alla delocalizzazione delle attività e del ricorso sempre più invasivo a strumenti di intelligenza artificiale nei contact center. L'azienda, hanno dichiarato dalla SLC-CGL e Basilicata, ha chiesto dalla primo di marzo una cassa integrazione straordinaria non a zero ore, ma il Ministero non li ha ancora convocati. Alla Palazzo del Governo abbiamo rimarcato la portata enorme che avrebbe questa crisi in una provincia come quella materana. Se i timori permangono, concludono, ci sarà una mobilitazione serrata e siamo disponibili ad altri scioperi. Il sindaco di Matera, Domenico Bernardi, scrive in una lettera di essere a fianco dei lavoratori Colmat per evitare qualsiasi crisi occupazionale in una terra già tanto appesantita da atavici problemi occupazionali. Il tutto per ora rinviato al 26 di marzo a Roma, la Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove sono state convocate, oltre alle sigle sindacali, anche la TIM e le aziende interessate, tra cui Colmat, alla presenza del Ministro Urso, occasione in cui ci si augura che con l'aiuto del Governo si possa trovare una soluzione positiva a questa complicata vertenza.